L'Avellino è a caccia di Bomber e sul taccuino del direttore sportivo Salvatore di Somma c'è sempre il nome di Simone Corazza, Bomber e protagonista della cavalcata della regina. Abbiamo intervistato il procuratore Alessandro D'Amico che ci ha confermato quanto detto da Massimo Taibi alla Gazzetta dello Sport, ovvero che l'Avellino ha cercato il calciatore. No, nel passaggio Taibi c'è questo interessamento dell'Avellino ma la trattativa non è di alta. Penso che ci sia stato un sondaggio. Avellino però sarebbe una piazza gradita a voi e al giocatore? Avellino è una piazza importantissima, sarebbe strano se non fosse così, anche se dopo naturalmente parlo con il mio modo di pensare. I giocatori decidono quali sono logisticamente le piazze che arrivano meglio. Dipenderà molto dalle alternative, però Avellino dovrebbe stare in altre categorie per quanto mi riguarda. Grazie.